Fulio Valcareggi, l'ultima giornata di campionato, quella che si è giocata tra venerdì, sabato e domenica, ha messo in luce tra gli altri Pazzini. Un giocatore che troppo spesso è stato bistrattato? È vero, Pazzini ha un po' girato perché non ha dato le conferme necessarie, stenta sempre a fare il titolare. Però l'ha fatto in grandi squadre, quindi fare il titolare al Milan, all'Inter, a Sampdoria era titolare e ha fatto molto bene. Quando alza un po' l'asticella è uno di quelli più in dubbio, ma il mestiere diventa più difficile, a Milano da tutte e due le parti. Pazzini è un giocatore che ha delle doti tecniche di altissimo livello, però fa fatica a fare il titolare nelle grandi squadre. Perché, per come, non lo so. Comunque è un grande attaccante che ovunque vada non riesce a fare il titolare. Però quando entra il calcio è pieno di controsensi, di cose inspiegabili e questa potrebbe essere una delle cose inspiegabili. Resterà dunque una riserva di lusso, Pazzini? All'80%, riserva un parolone, non gli sta bene addosso perché non è la riserva. Lui è sempre in procinto di giocare. E' che dove ora, magari al Milan, con Balotelli, con El Sharawi, questo ragazzino che ha sconvolto tutti i pensieri di tutti gli osservatori, questo Niang, che è tantissimo, tanta roba come si dice ora per semplificare, ma è pieno di talento Niang. Niang è imbarazzante la forza e la personalità di questo ragazzino. Che poi sai, gli africani con l'età non si sa mai bene, girano le voci che sull'età degli africani ci siano delle varie interpretazioni. Comunque là davanti ora stanno messi bene. Pazzini deve sudare le dieci camicie per giocare al titolare, però vedi quando va fa doppietta. E quindi è un bel giocatore. E' un titolare all'80%. Parlando invece dell'altra milanese, l'Inter, che idea ti sei fatto su Cassano, che è uno dei giocatori che ti è sempre stato a cuore? Ora basta, ha rotto. Ora basta. Deve capire che non è un gioco. Ora basta. Cassano, sei imperdonabile. Sei imperdonabile perché hai litigato con tutti. Io so delle cose dello spogliatoio dell'Olimpico imbarazzanti. Imbarazzanti. Comportamenti proprio da persona cattiva. Poi sei andato a Real Madrid? Uguale. Sei andato all'Inter? Uguale. Sei andato al Milan? Uguale. Sei andato alla Sampdoria? Hai fatto una cosa a Garrone, che io la so nei dettagli, che è imbarazzante. Quindi ora basta. Tu non hai idea della fortuna che hai per le mani, ma ti potrebbe sfumare da un giorno a un altro, anche se la tua carriera ormai è quasi conclusa. Ora basta, sei imperdonabile. Perché il Milan, che io non ho simpatia per il Milan, ma io sono per le persone, però Adriano Gagliani, con tutta l'educazione che lo distingue, ha detto che non ti risponderà mai. Perché tu sai quello che lui ha fatto per te e lui sa quello che ha fatto per te. Quindi la riconoscenza dovrebbe essere grata, enorme e vitalizia. Quindi sei imperdonabile. Io se fossi Moratti ti manderei a casa. Dopo sette, cinque, sei lezioni, sei comportamenti sbagliati, ecco, l'ottavo lo potevi veramente, non conseguirlo, dovevi non fare. Dovrebbero averti insegnato qualcosa, tutte le cose che hai fatto fino ad ora. Quindi a questo punto sei imperdonabile. E all'Inter che decisione prenderanno, secondo te? In qualche modo cercheranno di riabilitarlo o no? Capisci, ha finito i bonus, lo riabiliti. Ti giura tutto e di più e poi che ha giurato fedeltà alla mia squadra dell'Inter, come lo disse anche del Milan. E quindi non è più credibile, quindi le Cassanate. Ma le Cassanate in campo, guarda, le possa anche lasciar correre, ma è fuori dal campo che non va bene. Non sei più credibile, Cassano, io non ti prenderei mai. L'Inter, dall'alto della sua nobiltà, credo che non ti rinnovi il contratto e che ti mandi via. All'opposto di Cassano c'è invece Totti, un professionista esemplare. Totti è un ragazzo fantastico, Totti è un ragazzo, io ho delle notizie, l'ho conosciuto ai tempi quando giocava in nazionale militare, figurati, parlo del Medioevo, e è un ragazzo fantastico, è di una simpatia, potrebbe stare con noi al bar, è generosissimo. Lui aiuta chi ne ha bisogno, ma fa rispenti. Lui è uno di quelli che fa il volontariato senza dirlo, perché il volontariato è una cosa nobile, ma non va annunciato, si fa, non si dice. E lui fa tanto, te lo do per certo. E quindi è un ragazzo che come è nella vita è in campo. Io, Piola non lo raggiunge, 40 gol non ce la fa a Farli, perché è un 74 se non sbaglio. Ah, 74 del Piero, 75 Flachi, 76 Totti. Quindi bisogna fare, sono tanti, 40 gol, credo ne manchi 40, a Piola. Ma è ora, quest'anno ha sorpreso tutti, perché la classe immensa che ha, che prima aveva nella tre quarti avversario, ora l'ha in tutto il campo, ora gira per tutto il campo. Cioè per lui è molto facile, lui è dimagrito tanto, fa una dieta importante, si è tolto tutti gli zainetti che hanno quelli sovrappeso, e ora vola. E con la classe che ha, lui fa dei controlli, dei primi controlli, che sono, lui li rende facili, ma sono di una difficoltà imbarazzante. Io, Totti come giocatore, lo metto nell'alto. Dopo Maradona, ecco, forse Messe è più noto, è più bombe, ma io lo metto, insomma, i platini, questi giocatori.